Musica L'allenamento pomeridiano scandito dalla visita del presidente Maurizio Zamparini che questa mattina è arrivato in città, nel pomeriggio ovviamente visita al tenente onorato di Boccheri Falco dove si è intrattenuto con il tecnico Beppe Iachini e il direttore responsabile dell'area tecnica Giorgio Perinetti qualche pacca affettuosa alla squadra, un incontro tutti insieme ovviamente per tenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni la trasferta di sabato contro il Cesena e poi le due sfide prossime in casa contro Spezia e Bari al Renzo Barbera allenamento pomeridiano per la squadra di Iachini, poi domani mattina la seduta di rifinitura e nel pomeriggio la partenza per Cesena Grazie a tutti!